Grazie Nicola, buongiorno mister. Arriva a San Siro un Napoli molto continuo, molto quadrato, riduce da tante partite in cui ha potuto accumulare fiducia, autostima. Sono queste le principali caratteristiche del Napoli che affrontiamo domani sera? Sì, il Napoli è una squadra fortissima, come dimostra la classifica, con un allenatore fortissimo che sta in un buon momento, che vince, che sta in primo posto, arriva qui motivadissimo per affrontare le nostre squadre. Ma anche noi siamo motivati per giocare questa partita contro una squadra che è ovviamente fortissima, che ha vinto bene le partite che ha vinto. Ma come ho detto, per noi è una partita in cui noi siamo anche molto motivati. Peppe Di Stefano Sky. Buongiorno mister, buona partita per domani. Le chiedo che giorni sono stati per lei, per voi di Milanello, questa incertezza, si gioca o non si gioca, Bologna sì, Bologna no, potrebbe essere gestita in maniera diversa, anche per voi, per gli allenamenti, per lavorare magari con continuità meglio. Qual è la sua idea che si è fatta? Non c'è polemica da parte mia, proprio anche tecnicamente come l'ha vissuta lei? No, è stato difficile gestire questo momento, anche il giorno primo della partita, che non abbiamo giocato, è difficile gestire perché quando abbiamo fatto l'allenamento non sappiamo se giochiamo, se non giochiamo, e se non giochiamo possiamo fare un altro allenamento. sono stati ori difficili, anche perché volevamo giocare, penso che abbiamo stato molto penalizzati per il fatto di non giocare questa partita, una partita come ho già detto, volevamo giocare. E invece dal punto di vista fisico, tattico, tecnico, come è stato, vi mancano due pezzi importanti della squadra come Tijani Reinders, e Teo vi manca anche da Gabbia. Se ci fa anche un punto, le chiedo su chi potrà recuperare anche nelle prossime settimane, e se è cambiato la sua percezione in riferimento a Camarda, perché è entrato molto bene l'altro giorno, a volte le partite aiutano anche gli allenatori a vedere magari delle cose che in allenamento si vedono meno. Comincio anche per questo motivo, noi volevamo giocare, perché abbiamo adesso squalificati due giocatori importanti, perché male o bene i nostri giocatori prendono cartolina. Non è lo stesso, è sempre così, ma noi abbiamo questi due giocatori squalificati. Dopo, la squadra ha allenato bene, io ho fiducia in tutti i giocatori, ho fiducia in giocatori che giocheranno domani nella posizione di Teo e di Tiji, come tutti gli altri. De Camarda non ha cambiato niente, è entrato molto bene, è un bravo ragazzo che lavora sempre bene, ma ha confermato quello che io penso di Camarda, che è un giocatore con un grande futuro. Andrea Ramazzotti, Gazzetta dello Sporio. Salve mister, due cose. La prima, volevo sapere come ha visto in questi giorni di allenamento Leao e se ha già deciso se farlo partire dal primo minuto domani sera oppure no. e la seconda, visto che la scorsa settimana, quando ha fatto la vigilia della partita di Champions contro il Brugio, ci ha dato la formazione titolare e ha vinto, non so se è scaramantico o se vuole continuare con questa linea. Grazie. Magari doveva, ma non voglio. Oggi non parlerò di nessuno che giocherà domani. Io capisco la curiosità di Leao, Leao ha lavorato bene come sempre, non è un problema, non è un caso e siamo sicuri che lui ritornerà presto a essere quello che aspettiamo, quello che lui aspetta. Se giocherà domani, non voglio dire. Carlo Spasserini, Corriere della Sera. Ne faccio la domanda secca. Il Napoli è la squadra favorita alla vittoria dallo Scudetto? È la favorita? Questa cosa di favoritismo per me è sempre complicata. È la squadra più forte del campionato? In questo momento è il primo posto, è la più forte. Per me Napoli è una delle squadre che può vincere il Scudetto. Francesco Rocchi, Rai. Buongiorno. Vorrei tornare, Leao non è un caso, ma allora che cosa non sta funzionando? Perché sta vivendo questo momento così complicato? Perché l'allenatore non fa giocare. Perché se fai giocare non c'è nessun problema. No, sono in situazione normale nel calcio. Giocano o non giocano. Come ho detto, quando faccio la mia scelta penso sempre in diverse cose. Non ha giocato, magari gioca domani. Per me questo è molto normale. Claudio Raimondi, Medias. Ciao mister. Allora, appena detto poco fa, per me è una del Napoli delle squadre che può vincere lo Scudetto. Una delle due squadre. No, io non ho detto le due. Una delle squadre. No, io ho detto una delle due squadre. No, no. Una delle squadre. Ecco, infatti, la domanda è questa. Il Milan è ancora dentro il discorso Scudetto? Mi spiego. Dopo il 4-4 di ieri sera tra Inter e Juve, si è detto Napoli gode. Insomma, è un risultato che fa bene al Napoli per lo Scudetto. Si parla di Inter, si parla di Napoli, si parla di Juve. Si parla meno di Milan. Allora, la domanda è, il Milan è ancora in corsa per lo Scudetto? Per me, sì. Perché devono crederci i tifosi? Perché devono crederci? Perché siamo una squadra forte, stiamo in crescita. e crediamo che possiamo essere anche una squadra che puoi luttare per il Scudetto. Antonio Vitiello. Salve mister, buongiorno. Buongiorno. Le chiedo, il fatto che Bologna-Milan si recuperi fra quattro mesi, molto probabilmente, a febbraio, secondo lei questo va un po' a falsare l'intero campionato? È una domanda più di campo. Calabria potrebbe essere utilizzato a sinistra? È un'ipotesi, ovviamente, di campo, visto che non c'è Teo Hernández. Sì, potrebbe. Di Bologna, io non voglio parlare più della partita con Bologna. Siamo totalmente focalizzati sulla partita di domani. È passato, dobbiamo andare avanti. Biscogliosi, Sport Italia. Salve mister, la riporto un po' all'estate. In tanti, soprattutto i tifosi, invocavano sulla panchina del Milan chi lo voleva l'allenatore che domani lei affronterà. Le chiedo se questo le dà una motivazione anche extra nella gara di domani, oltre alle motivazioni che un Milan-Napoli porta sempre con sé. Grazie. La mia motivazione è di essere l'allenatore del Milan, punto. Grazie. Longo, calciomercato.com Mister, lei da quando è arrivato sulla panchina del Milan sta ragionando anche molto in fase. Ha detto che è una squadra in crescita. Magari adesso, dopo la partita contro, se non ricordo male, contro l'Udinese, ha detto che questa è la mia squadra che sa anche soffrire. Le chiedo, in questa fase, soprattutto alla luce della partita, dalla vicina della partita contro il Napoli, cosa si aspetta? Che passetti in più si aspetta dalla sua squadra in termini di concentrazione, fase difensiva, fase offensiva in generale? Che cosa si aspetta di più? In generale si aspetta tante cose. Quando analizziamo le ultime partite è sempre il nostro focus vedere quello che noi abbiamo fatto bene e quello che dobbiamo migliorare. domani sarà una partita diversa per me. Sarà una partita equilibrata, una partita contro una squadra che difende molto bene, però abbiamo preparato la partita pensando in quello che possa essere la partita di domani. La fase difensiva è una cosa che abbiamo migliorato, ha altre cose che possiamo migliorare, ma penso che abbiamo avuto una crescita grande in termini di organizzazione difensiva. Offensivamente, per esempio, penso che abbiamo avuto una crescita in queste ultime partite con fase di posizione più forte in questo momento. Magari domani abbiamo bisogno di giocare più negli ultimi 30 metri perché Napoli è una scuola che pressa alto o che abbassa in blocco basso. È una cosa che anche dobbiamo migliorare gli ultimi 30 metri della nostra scelta, la forma come dobbiamo affrontare un blocco che normalmente si compacta molto basso. Ha sempre cose da migliorare, ma penso che abbiamo migliorato in tante cose. Michael Cuomo, te la Lombardia. Buon pomeriggio, mister. Grazie. Avere l'asterisco, cioè quella partita in meno che aumenta le distanze, che ti lascia un po' di incertezza, è un aspetto su cui lavorare, è un aspetto che penalizza, è un aspetto che... come si gestisce? Per me è onestamente lo stesso, ma che penalizza per i tifosi, per le persone che guardano la classifica, penalizza. Per me non cambia niente, ma capisco che per le persone che guardano la classifica è diverso. Federico Masini, Tutto Sport. Buonasera, mister. Voglio chiedere due cose. La prima, con la Rosa al completo, senza infortunati e tutte a disposizione, per lei Pulisic il ruolo ideale qual è? Quello di trequartista, visto che continua a dire che ama quando lui è più in zona centrale. E poi le chiedo un'altra cosa, veloce. Di questa... Oggi non voglio parlare. In generale, voi sapete che mi piace più quando Christian gioca dentro, interiormente, mi piace più. L'altra cosa però dipende se ha visto la partita di ieri sera, Inter-Juventus, se l'ha vista. Le chiedo, qual è il suo giudizio? Cioè, lei è del partito? Gara spettacolare o gara con tanti errori? Grazie. Le due cose, le due cose. Andiamo da Stefano Bressi. Sì, mister, buonasera. Buonasera. Volevo tornare un attimo su Leao, perché la sostituzione contro il Bruges, volevo chiedere se alla fine è più una questione di... quella copertura magari mancata in occasione del gol subito che quello che invece ha fatto con il pallone tra i piedi che è stato abbastanza positivo. No, 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 non è stato. Non è stata una scelta di quello che penso che la partita chiedeva in quel momento. Non è stata una penalizzazione. No, no, no. Conte, Aria. Ciao Paolo. Conte, la settimana scorsa ha detto che chi vince, chi ha vinto, sa cosa serve per continuare a vincere. Secondo te lo deve sapere più la società o lo deve sapere la squadra con la mentalità, con la convinzione da metterci dentro? Non ho capito bene le domande. Conte ha detto settimana scorsa che chi ha vinto sa cosa serve per vincere. Per te è una cosa che deve sapere più la società o la squadra deve entrare nella mentalità e nelle convinzioni di poter vincere? Ma Conte ha parlato di Napoli, no? No, parlava di Juve e parlava di Inter perché si dovevano affrontare e lui dice che chi ha queste abitudini a vincere può continuare a volerle, ad averle. Non capisco bene le domande. Andiamo di qua. La riprendiamo dopo. Scusa, non ho capito bene. Prova a rifarla. Antonio Conte l'altra volta ha detto parlando di Juventus e Inter che sono società e squadre che hanno l'abitudine di vincere ha detto che chi vince sa cosa serve per vincere come mentalità, come gioco, come convinzione. Volevo chiedere appunto se il Milan ha queste convinzioni come squadra, come società e se ha la mentalità per poter vincere lo Scudetto. Sì, io ho detto qui che vogliamo continuare a luttare per vincere il Scudetto. Se noi abbiamo questa forza sono sicuro che sì. Sono sicuro che sì. Quello che è importante tutto è importante in questo momento. Maurizio Cardone Buon pomeriggio mister. Ciao. Lei non ha mai cercato alibi si prende sempre le sue responsabilità però inevitabilmente domani è forse il suo momento più difficile da un punto di vista dell'indisponibilità perché ha tante assenze e si dice sempre che nei momenti di difficoltà viene fuori il gruppo. È una grande risposta di gruppo che serve domani sera più di ogni cosa per battere questo Napoli. Io come ho detto sempre ho fiducia in tutti i giocatori e onestamente non è solo qui non è solo qui io penso così non possiamo fare niente con i giocatori che non abbiamo disponibili. Abbiamo altri giocatori mi piace più di sentire che è un'opportunità per i giocatori che normalmente non giocano hanno la possibilità di giocare è così che io mi piace vedere le cose e come ho detto io credo in tutti i giocatori ho fiducia in tutti i giocatori non è perché non gioca un altro giocatore che non ho fiducia per poter vincere questa partita dei giocatori penso che tutti devono capire che quando quando siamo una squadra non interessa il nome dei giocatori che giocano siamo più forti e domani abbiamo bisogno di avere una squadra per poter giocare bene contro Napoli andiamo dietro Milan Press buongiorno ha parlato poco fa di Calabria possibile sulla sinistra io rilancio dico un'alternativa anche per il futuro vista la posizione che ricopre il nazionale può essere Pavlovich come terzino come terzino sì perché lui in nazionale serba usa il ruolo di difensore a tre a sinistra no ma loro giocano con tre e per volte costruono con il terzo con un difensore centrale più aperto ma onestamente non mi sembra che Pavlovich ha le caratteristiche per essere terzino andiamo da Martin Sartorio buongiorno mister io torno un attimo sul Napoli cosa o chi teme di più degli azzurri e soprattutto la partita potrebbe essere decisa sugli esterni sulle corsie grazie sì sono le due squadre sono le giocatori più decisive delle due squadre Napoli ha due giocatori a destra e a sinistra che sono giocatori che creano più per la squadra noi abbiamo anche sugli esterni giocatori importanti che possono decidere dei partiti se non ci sono altre domande facciamo che sono non lo so facciamo l'ultima con Carlo Pellegatti sì grazie due domande buongiorno buongiorno senta nel 1987-88 il Milan di Sacchi gioca contro il Napoli non era un Milan di Sacchi aveva già perso due partite ne aveva pareggiate quattro però la partita con Napoli è stata quella che ci ha fatto capire Gullit eccetera la forza qui leggo la gazzetta nasce il Super Milan Napoli distrutto dice in quel giorno la gazzetta dello sport si sogna che il Napoli la partita con Napoli possa essere perché quella con l'Inter è stata un po' assorbita dalla partita con la Fiorentina la sua partita perché si parla di un Milan di Fonseca fra qualche anno abbiamo già parlato di questo prima della partita con l'Inter io non penso così io penso che le vittorie portano fiducia più contro le squadre più più forti ma penso che la crescita di una squadra non sta dipendente di una partita perché se possiamo fare una partita stupenda domani ma se dopo ritorniamo non serve quello che mi piace più è vedere se la squadra sta in crescita se la squadra sta migliorando quello è lo più importante ma le vittorie ovviamente portano tante fiducia più contro questo tipo di squadra invece voglio chiedere all'allenatore non allenatore del Milan mi si metta in cattedra gli americani dicono che l'attacco porta i soldi mentre le difese portano i titoli io ho visto l'ultimo weekend 4-4 ieri ma in tutta Europa Norwich Middleburg 3-3 ieri ho visto Monaco Nizza retropassaggio e gol di Labord 4-0 con la difesa molto alta di tutte e due le squadre ma non insegnate più a difendere vedo degli errori retropassaggi delle cose che tanti anni che seguo il calcio non vedevo prima ma voi allenatori la difesa che fa vincere i titoli vedo non come una volta 4-1 il Barcellona con il Bayern parlo di squadre forti cosa sta succedendo a voi allenatori possiamo ficare qui più due ore a parlare di questo ma lei ha potere di sintesi bene se pensiamo se pensiamo in Serie A non possiamo dire che l'Irland non lavorano difensivamente perché se ha un campionato dove si lavora difensivamente è Serie A una delle squadre che hanno più incidenza difensiva è qui e penso che qui si lavora tanto il momento difensivo io mi piaceva mi piaceva lavorare più ma non ho tempo perché qui e queste squadre che giocano tre in tre giorni non hanno tempo per lavorare praticamente niente preparare strategicamente le partite è così penso penso che ha tendenza sono tendenza adesso in calcio ha anche una cosa che per me è importante che è il lavoro individual oggi si lavora tanto le strutture le linee difensive ma manca lavorare un po' individualmente principalmente sul difensore e quello che io vedo è che il gol succedono tanti in quasi tutte le squadre non di error di struttura ma di error di decisione difensiva ha tanti ha tanti gol che sono così sono 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 così ma onestamente penso che oggi è più difficile attaccare perché le squadre difendono meglio che nel passato dopo ha una tendenza per me che è l'uomo uomo qui è stato sempre chiaro che le squadre è qui hanno tante squadre che difendono così adesso abbiamo cominciato a vedere anche in un momento non sempre in tutta la partita ma hanno oltre squadre anche grandi squadre in momenti a giocare così io penso che questo anche porta più opportunità in qualche momento della partita posso dare un esempio Barcelona Bayern come si dice in italiano Monaco hanno guardato la partita Bayern quando è la prima fase quando è alto pressiona uomo uomo pressiona uomo uomo quando è medio block low block non pressiona uomo uomo ma questo qui rischia tanto e dopo quello che Barcelona ha fatto è fatto gol in questi momenti in questi momenti e allo stesso tempo più rischioso pressar così e allo stesso tempo situazioni che criano più opportunità sì è vero ma in generalità io penso che tutte le squadre difendono meglio che nel passato è più difficile cercare spazio oggi si vede non sono tutte le squadre che sanno attaccare negli ultimi 30 metri quando le squadre sanno basse perché è difficile cercare le spazio le squadre sono organizzate è difficile cercare le spazio dopo succede partita con tanti gol è vero ma una spiegazione chiara e concreta su questo io onestamente penso che tutte le squadre difendono meglio che nel passato grazie e buon lavoro a tutti ciao ciao